Torna a Cosenza, Cose Belle Festival, l'evento dedicato alla creatività e al design che dall'11 al 16 dicembre animerà il complesso monumentale di San Domenico. L'evento è promosso dall'Associazione Interazioni Creative con il patrocinio dell'amministrazione comunale. La manifestazione è un vero e proprio invito a sperimentare e valorizzare la propria creatività attraverso tavoli creativi, workshop, talk, laboratori per bambini, mostre e perfino un market dove scovare creazioni uniche realizzate da bravissimi artigiani. Il calendario delle buone feste si arricchisce di un'altra manifestazione importante giunta alla seconda edizione, Cose Belle Festival, nel suggestivo chiostro di San Domenico, una sei giorni dedicata alla creatività, ai laboratori per bambini, agli artisti, agli artigiani, ma soprattutto agli illustratori che verranno anche da diverse nazioni fuori dall'Italia. E questo per noi è molto importante, sia per far conoscere Cosenza e la città, ma soprattutto questo mondo anche di grande attrazione relativo proprio alla creatività e alla comunicazione che qui sul territorio è molto interessante. Creo e sono felice e tu e il claim del festival. Un festival quindi incentrato sulla creatività per cercare di regalare momenti di felicità a chi vorrà visitare il festival e le varie attività in programma. Il programma è presente sul nostro sito, un portale molto completo, cosebellefestival.it, a cui addirittura è possibile prenotarsi sui posti limitati e le attività creative dedicate ai grandi e ai piccini. Abbiamo infatti tavoli creativi per gli adulti, sono nove tavoli creativi molto particolari, dall'interaction design all'interseo del legno fino alla ceramica, creare oggetti gioielli in origami, tutto quello che quindi ha a che fare con il design del progetto. E poi abbiamo cose belle for kids, la seccina dedicata ai bambini, che vorranno sperimentare quello che è un approccio ai nostri tre ispiratori, che sono Rodari, lo scrittore, Munari, il designer e Maria Montessori, l'educatrice.